La diga di Montedoglio ha i suoi minimi storici, una situazione che ormai si protrae da diversi mesi, anche se siamo in autunno inoltrato. Nel punto in cui ci troviamo in questo momento saremmo dovuti essere sommersi dall'acqua e invece, come vedete, siamo circondati dalla vegetazione. Una situazione dovuta non solo alla mancanza di piogge, quindi alla siccità, ma anche al protrarsi dei lavori di ripristino per quanto accaduto il crollo, lo ricorderete, nel 2010. A dicembre del 2010 crollò un muro di contenimento della diga e l'onda di piena invase le campagne. I lavori di ripristino sono iniziati nel 2020 e ancora sono in corso. Ora l'invaso, complice soprattutto la siccità, comincia davvero a soffrire la sete. Ed è proprio in questo scenario che il sindaco di Pieve Santo Stefano, assieme agli altri sindaci della Valtiberina, formuleranno una richiesta particolare. Chiederemo la convocazione del comitato dei sindaci in maniera tale che l'ente Irrigo, cioè l'Iaut, si parli con noi e si dica lo stato delle cose per quanto riguarda anche la ricostruzione del muro. Nell'occasione chiediamo anche di chiamare al tavolo sia la regione sia quelli che dovrebbero essere i proprietari del bacino, perché voglio ricordare che l'Iaut gestisce solamente lo sbarramento e non gestisce il lago, perché vogliamo che si rendano conto della situazione attuale e di prendere provvedimenti per una sua sistemazione. E' sotto gli occhi di tutti che stanno emergendo piante ormai sommesse da tanto tempo, la vegetazione in questi dieci anni, la crollo del muro si è rigenerata e quindi, se è vero che siamo vicini alla fine dei lavori e quindi è vero che il lago tornerà a crescere, noi desideriamo che sott'acqua non ci vada nient'altro che quello che è necessario, quindi una bella ripulitura del lago. Il tempo per programmare le cose bene, senza fare danni all'ambiente ce n'è e quindi chiediamo, appunto perché c'è tanto tempo, di mettere mano fin da subito con le decisioni giuste e appropriate.